Ci troviamo con Luca Sofri in occasione della festa degli atleti ad Anterselva, però prima intanto volevo chiederti come stai, visto che l'operazione è avvenuta. No, tutto a posto, tutto andato liscio come voleva il dottore. Alla fine è un intervento abbastanza veloce. Sono riuscito a tornare immediatamente il giorno dopo. Adesso ci tocca fare un po' di riabilitazione, un po' di fisioterapia e poi da programma è previsto che posso rientrare dopo la prima settimana di maggio. Per cui è perfetto perché almeno così sto fermo. Sì, è perfetto, proprio sfrutti perfettamente, ti riposi davvero durante... Se no sono sempre in giro. Senti, ti volevo chiedere, ma quando avevi deciso di operare la spalla? Cioè, quando era stata presa la decisione? Cioè, aspettato volontariamente fine stagione, quindi? Ma diciamo, la scelta è stata già fatta prima della stagione perché, diciamo, l'incidente, neanche l'incidente, ma il sovraccarico che mi è capitato è già successo in autunno ed infatti la me la sono sempre portata in avanti. Siamo riusciti a, diciamo, a creare un piccolo ponte da autunno fino a fine stagione con delle infiltrazioni di cortisone però non è il massimo perché prima o poi il corpo ti dà delle risposte e infatti la scelta abbiamo preso prima che poi sono riuscito a prendere subito l'appuntamento tramite il mio dottore privato da casa in questa maniera era più che ottimale perché alla fine, da un colpo all'altro, tornando a casa da Oslo mi è arrivata la conferma dell'appuntamento io la possibilità l'ho sfruttata subito sono andato lì e siamo riusciti a risolvere tutto quanto adesso speriamo che non tocca fare altre cose perché dai test abbiamo capito che anche la, diciamo, la destra non è messa, diciamo, nelle miglior condizioni però quella anche normale, l'atleta professionale però finché tiene la lasciamo lì andiamo avanti senti, tantissime persone di Anterselva oggi è un Anterselva praticamente qui con voi che effetto ti fa vedere così tanta gente a salutarvi? beh sempre, non è solo un onore avere tutta la gente ma fa tanto piacere perché sono tantissimi che ci seguono io da non uno, diciamo, di origine di Anterselva però ormai è la seconda casa perché dal 2000 che sono qua quasi ogni giorno per fare allenamento ormai li conosco tutti è diventato come una seconda famiglia anche qua ma a me fa sempre tanto piacere tornare in questa valle perché sono cresciuto con il Sciclap di Valle di Anterselva e alla fine è anche, diciamo, un merito loro da dove è partita la mia avventura poi sei anche legato sentimentalmente, no? diciamo, anche quello per cui diciamo tutto quanto torna sempre in qua Senti, abbiamo visto tanti bambini oggi so che anche ci sono dei cugini tu hai cugini che fanno anche il biathlon, mi dicevano Cugini no, ma nipotini alla fine sono cinque nipotini delle mie sue sorelle che hanno iniziato tutti quanti a fare il biathlon fa tanto piacere perché stanno seguendo la mia strada però da bambini devono divertirsi ancora devono non essere troppo rigidi e devono avere tanta, diciamo, tanta voglia di divertirsi sugli sci poi tutto il resto viene da dopo L'ultima cosa che ti chiedo visto quello che stacca a Dorotea che effetto ha fatto quell'ultima riunione con tanti addi ecco, per esempio per pensare che non avrai più Ando Zingerle, no? come allenatore dopo tanti anni che effetto fa? Eh, strano mi lasciano tutti da solo come ormai ho già detto un paio di volte se adesso anche l'odore non so se continuerà lo vedremo nei prossimi mesi però si sta chiudendo un capitolo con quale sono partito io con quale è nata la mia avventura del biathlon io gli auguro solo il meglio che potrà avere Dominic adesso come allenatore che poi magari gli farò compagnia tra qualche anno Ando adesso se le godrà la vita fa bene perché tutto quello che ci ha dato non si riesce neanche a ringraziare perché tutto quel tempo che ci ha dato disponibilità di allenatore ma anche di atleta prima credo che non riesce a pagarlo per cui io spero di vederli ancora e grazie a tutti quanti grazie a te Luque buon recupero grazie